Una giovane di 32 anni di Canicattì è stata denunciata alla Procura della Repubblica per lesioni personali e minaccia aggravata. A procedere dopo una breve attività di indagine sono stati i carabinieri della Compagnia del Comune in provincia di Agrigento. La ragazza avrebbe minacciato, aggredito e sferrato una coltellata alla madre. La donna ferita, una 53enne, è finita al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo, dove i sanitari le hanno diagnosticato una ferita lacero contusa alla mano destra, escoriazioni sparse, un tramo al ginocchio destro e l'avulsione parziale di un dente. Alla donna, inoltre, sono stati dati 15 giorni, salvo complicazioni, per guarire. Anche la figlia è finita in ospedale, dove le sono state riscontrate escoriazioni sulla schiena e ad un braccio. Tre, invece, i giorni di prognosi che gli sono stati dati dai medici. I militari dell'arma sono riusciti infine a recuperare e sequestrare il coltello da cucina con lama da 24 centimetri con cui la giovane avrebbe colpito la madre.